buongiorno signora Guggenheim, come si sente oggi? l'infermiera era entrata nella stanza col vassoio della colazione lavorava da poco all'ospedale di Padova e gli avevano detto che questa paziente era una persona importante mamma mia, continua a piovere in più a Venezia in questo periodo c'è anche l'acqua alta ho dovuto mettermi gli stivaloni di gomma per andare fino al vaporetto c'era l'acqua alta a Venezia, tanti anni fa quando ci venni con Lorenz, Lorenz Weil, il mio primo marito era un artista ma è morto già da molto tempo ci eravamo conosciuti a New York e ci rincontrammo assolutamente per caso durante un viaggio a Parigi Parigi ma Lorenz era magnifico, conosceva tutti gli artisti di Parigi, lo chiamavano il re della bohème un incubo un incubo che torna a tormentarmi e non vuole andarsene oggi una delle pazienti mi ha raccontato delle cose buffe era divertente, ma mi sa che si è inventata tutto è straniera e pare anche che sia una persona importante si chiama Guggenheim ho vissuto per l'arte o piuttosto ho aiutato l'arte a vivere la prima tappa fu Marsiglia per poter ottenere i visti necessari e a Marsiglia incontrò un giornalista americano Varian Fry a capo di una rete segreta che agevolava l'espatrio degli ebrei ma anche di altri perseguitati verso gli Stati Uniti Anche Max Ernst si trovava nel sud della Francia questo fu un incontro providenziale perché lui l'aveva scongiurata di non dire mai che era ebrea ma di affermare che era una cittadina americana questo consiglio le salvò la vita e grazie a Marcel Duchamp che ho imparato a capire e ad amare l'arte contemporanea ho amato l'arte e anche gli artisti Jackson Pollock per esempio era uno dei miei favoriti e anche gli artisti